Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, incontrerà il premier Matteo Renzi in visita oggi a Catania. Illustrerò al capo del governo i danni e l'emergenza vissuta in città a causa del ciclone. Obiettivo il riconoscimento dello stato di calamità. Il presidente Renzi viene in visita a Catania anche per altro, per cose che riguardano la produttività. Farà una visita alla Telecom, all'ST Microelectronics. Io vado a Catania perché colgo questa opportunità, speriamo di avere un colloquio anche breve per cercare di portare, fargli vedere un po' di documentazione, fargli capire che realmente il 5 novembre non deve essere assolutamente dimenticato e quindi ritengo che questa sia un'opportunità. Allora andrò a Catania con un animo, uno stato diverso rispetto a quello che può essere del sindaco Bianco e degli altri sindaci che oggi andranno lì. Speriamo ci sia l'opportunità e il tempo per aprire un colloquio, un dialogo e nel frattempo ribadisco che occorre che i nostri deputati a Roma facciano il proprio lavoro. Non basta una semplice lettera al giorno che Renzi arriva a Catania. È superfluo, bisogna veramente lavorare affinché venga riconosciuto lo stato di calamità. In un momento in cui ci sono tante difficoltà anche in altri territori, difficoltà ancora maggiori. Quindi coglierò questa opportunità semplicemente per questo. Grazie a tutti.